ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale oggi vi parlo di un righello con goniometro incorporato adesso apriamo un righello interamente in acciaio come si può vedere bordi non smussati quindi fate attenzione quando maneggiate però non c'è pericolo di tagliarsi era meglio se erano smussate comunque dicevo un righello con goniometro incorporato vediamo accendiamo con i momenti adesso segna 0 gradi man mano che sia ad aprire adesso andiamo a fare un angolo di 90 gradi ecco la precisione nel mio forte quindi contentatevi di 90 90 e 20 comunque ottimo per chi fa disegno deve fare angoli oppure ha bisogno anche di avere un un righello bello lungo perché si può aprire andiamo a oltre 50 centimetri aperto singolarmente invece è di 20 centimetri come si può vedere tasto hold per bloccare infatti anche se si apre non varia tasto on off per spegnerlo trovate nella descrizione il link per acquistarlo prodotto veramente bello maneggevole sicuramente dura ci vediamo alla prossima recensione ciao